Ragazzi benvenuti in questo nuovo video ragazzi, io mi chiamo Ciccio Gamel8 E il 9 se l'è mangiato? Il professore detta al ragazzo che il professore sarei io Sono passati solo 5 secondi e non ci sto capendo un cazzo E l'alunno sarebbe mio cugino Che prima abbiamo fatto... La scuola fa schifo Allora amici da casa, problema matematico, via Chi vuole scemi orario? Se dopo 5 secondi Jolly non ha capito un cazzo Dopo un minuto sarà A. Morto B. Morto C. Morto D. Vi prego uccidetemi La scuola fa schifo Ha detto lui stesso ragazzi Perciò adesso inizieremo Aspettate un attimo Va bene tutto quello che vuoi Ma lo schermo non è che lo possiamo riadrizzare No perché mi si sta... Adesso vi faremo vedere questo video così Eh vabbè ma allora sei stronzo Non fa niente Ma come non fa niente? Che cazzo me lo paga il colo nuovo? Ma non fa È proprio perfetto Lui dovrebbe fare la tour e non il cantante In effetti ha delle doti naturali Un talento nascosto cazzo Ragazzi però i professori danno veramente Ma che palle ragazzi Io mi scoccio Ragazzi guardate che... Non prendiamo lo scoccio Avete capito la battuta? Io mi scoccio No non penso Scoccio scoccio Qualcuno mi può tagliare il collo per favore? Tecnologia come ti permetti Scrivi e basta Ecco perché ha detto cantante prima Perché probabilmente questo fenomeno si chiama Scrivi e basta E sarà un trapper molto probabilmente Che cazzo era un treno? Ragazzi questa è la fine del video Mettete mi piace E condividetelo È stato bellissimo